Buongiorno a tutti e benvenuti alla puntata numero 24 del 2016 di Motor News con il consueto spazio dedicato al mondo dei motori e in questi minuti parleremo di Citroen C4 Cactus, Skoda Kodiak che è il nuovo SUV della casa della Repubblica Ceca vedremo anche un servizio dell'Alfa Romeo 4C Suzuki Cross Country con il campionato di questa casa automobilistica e Peugeot con Paolo Andreucci e con la vittoria nel Silkway Rally ma il primo allora dei servizi è della Citroen C4 Cactus è il momento d'estate, è il momento di andare al mare e noi andiamo al mare con la Citroen C4 Cactus serie speciale Just Black vediamo prendere la strada del mare al volante della Citroen C4 Cactus in direzione Cervia è piacevole e rilassante grazie all'eccellente abitabilità per 4 persone mentre la buona cubatura del bagagliaio ci permette di caricare agevolmente tutto il necessario per le vacanze a portarci verso la riviera è la C4 Cactus serie speciale Just Black che si presenta in una nuova veste cromatica dove è il nero a dominare con un esclusivo effetto tono su tono delle superfici lucide opache della carrozzeria e degli airbump sulle fiancate completano l'allestimento i gusci neri degli specchietti, le barre al tetto e i cerchi lega da 17 pollici cross black l'equipaggiamento di serie è davvero completo e comprende anche il climatizzatore automatico il navigatore, i sensori di parcheggio, i vetri posteriori oscurati e i fendi nebbia con funzione cornering light il viaggio con Cactus si rivela come sempre gradevole grazie alla comodità offerta dagli interni spaziosi e razionali mentre il nuovo propulsore PURTEC, tre cilindri 1.2 turbo da 110 cavalli garantisce non solo un notevole brio ma anche consumi contenuti e una grande fluidità di marcia non ci vuole molto ad arrivare a Cervia e ci dirigiamo subito verso il Citroen Village ospitato dallo stabilimento Fantini sull'onda della positiva accoglienza del Cactus Bar dello scorso anno la collaborazione tra Citroen e Fantini Club ora si amplia sino a dar vita a un vero e proprio villaggio vacanza di 15.000 metri quadri con oltre 100 metri di fronte mare tramite il villaggio Citroen si racconta presenta i propri valori in mariera originale in un ambiente il cui relax e momenti di gioco possono essere talmente coinvolgenti da stabilire un rapporto duraturo fatto di simpatia e fiducia la presenza del marchio è evidente ma non invadente fin dal corridoio d'ingresso, nelle zone comuni del village e negli accessori da spiaggia nella piazzetta principale del villaggio di fronte al bar-ristorante attira l'attenzione una C4 Cactus White mentre una seconda C4 Cactus in spiaggia fa da sfondo ai selfie degli ospiti di Citroen Village per consentire ai genitori di beneficiare di qualche ora di tranquillità Citroen Village ha aree dedicate al divertimento dei componenti giovani della famiglia i più piccoli intrattenuti da un'animatrice possono giocare o sfogare la loro vena artistica disegnando e colorando con pennarelli speciali l'ampio spazio della carrozzeria di una gran C4 Picasso i più grandi hanno a disposizione la Citroen Unconventional Surf School con istruttori pronti ad insegnare loro i rudimenti del surf e a perfezionare la tecnica già acquisita infine durante tutti i weekend sarà possibile prenotare un test drive delle due vetture protagoniste del Citroen Village C4 Picasso e C4 Cactus C4 Picasso e C4 Cactus